Blitz dei carabinieri nel quartiere Murat di Bari, dove al termine di ispezioni all'interno di un vano condominiale i militari hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti quasi 5 kg di marijuana, 1,5 kg di hashish, 40 g di cocaina e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e infine due guanciale per pistola tamburo e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Un 49enne disoccupato e così finito in manette appoggiò Franco perché scoperto in possesso di 42 g di hashish nascosti addosso e in casa. In manette anche due giovanissimi pusherbaresi, un 22enne e un 24enne. Il primo è stato sorpreso mentre vendeva 20 g di marijuana, un 22enne, mentre il secondo è stato fermato mentre stava cedendo 7 g della stessa sostanza, un 19enne. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire all'interno del vano contatore delle loro abitazioni altri 100 g di marijuana e 80 g di hashish, oltre alla somma contante di 90 euro ritenute il provento dell'attività illecita. Una quarta persona è stata arrestata a Poggio Franco, si tratta di un 42enne disoccupato sorpreso a cedere roina, un 48enne barese. In una successiva perquisizione è stata scoperta nella sua abitazione anche mezzo grammo di cocaina. I quattro fermati si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.